Ciao Federico! Ciao mamma! Ciao ragazzi e bentornati sulle storie di Federico! Facciamo vedere il disegno di Fede. Allora Federico, visto che sei stato bravissimo e hai già finito anche il libro, con i compiti per le vacanze, la mamma ha qualche sorpresa per te. Grazie mamma! Allora, la prima la mamma ti ha preso, però chiudi gli occhi, non fare il furbetto. No, io intanto continuo a costruire il mio Lego. Guarda! Pienarelli nuovi! Grazie mamma! Sei la migliore! Amore cucciolo bello! C'è un'altra? Sì, altre due. Guarda, ho preso questi. Due libri! Oh, questo mi sa che mi piacerebbe molto, Pijama Parti con i morti. Sì, ma anche quel... È anche storia di un fiocco. Ma di sicuro sono bellissime e sono apposta per te. Grazie mamma! Così iniziamo a leggere da soli e non solo con la mamma. Qual è l'ultima? C'è un'altra? No! Sì, ma io credo di sì. Credi male, ma non basta, no? Scusa! No, un'altra. Allora, facciamo una magia. Chiudi gli occhi. Hippity boo! Hippity boo! Facci la magia che ci... Sia un'altra sorpresa per Federico. Allora, adesso è arrivato il signor coniglio che è invisibile. Abbra, pedabra! Ma funziona! Ciao! Ma che bravo, signor coniglio! Ma che bella leggo è questa! È un Lego Super Mario! Wow! È dell'avventura nei posti di ghiaccio. Vediamo. Ma è fantastica! Mamma mia, quanto! Ma c'è cupa troppa! Allora, vediamo cosa c'è. Tutto di ghiaccio! Eh sì, perché è un Lego di ghiaccio. La mia cosa che mi piace di più è il falò. Fammi vedere. Ah sì, è vero. Perché avevo già visto qua che c'è... Mario fa il falò con Baby Pinguini. Allora mi sa che tutto il pomeriggio costruirai questa Lego, vero? Sì. Ma non abbiamo più posto a mettere le Lego. Basta, signor coniglio. Basta! Non abbiamo più posto, siamo pieni di Lego. Invece io so dove mettere lui. Anche qua? Qua. Oh, ma che bellissimo disegno! Eh sì, ma l'ho fatto con i vecchi penarelli, perché quelli sono nuovi. Vero? Sì? Va bene, allora buon divertimento! Grazie mamma! Ti sono piaciute queste sorprese? Molto! Allora, mi incuriosiscono i libri, soprattutto questi. Però, 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 dimenticavo una cosa. Ma mamma ti ha preso un'altra cosa. Un bellissimo quaderno. Per disegnare il doposcuola e l'antice? No! Per fare il riassunto di questi bellissimi libri. E sorprese? Sì, se vuoi scrivere qualche pensiero. Poi c'è un altro libro che dobbiamo finire, anzi dovrai finire tu, e fare il riassunto. Perché è un libro molto di insegnamento. Ci stai? Ma poi me l'hai regalato adesso, me l'hai regalato un altro giorno. Qualche settimana fa. L'abbiamo preso quasi dopo che hai finito la scuola. Se gli amici sono veri amici, devi trattarli molto bene. Eh sì, questo ti insegna molto. Quindi farai tre bei riassunti. Sì. Ok, ci stai? Sì, per prima cosa. Poi leggeremo gli riassunti ai tuoi amici. Sì. Perfetto, dai, buon divertimento. Mamma, ci sono i tuoi giocatori. Certo. Ciao Federico. Ciao mamma, bisogna comprare ancora questi. Guarda, guarda quante. Eh sì. Questo devo unirlo perché è sempre ghiaccio. Cioè, è Mario, è Super Mario che dovranno farti la statua a te, anche la Lego, dovranno farti la Lego di la storia di Federico. Guardate, io volevo comprare o questo o questo. Io avevo scelto questo e dicevo, ma quando arriva il signor coniglio, grazie. Eh sì, grazie signor coniglio. Bye bye. Bye bye. Bye bye.